Benvenuti a questa puntata di On Podcast, già sorrido perché oggi siamo insieme ad un ospite speciale, siamo insieme a Maurizio Romano Che come di consueto risponderà alla domanda principale, ovvero chi sei, di cosa ti occupi, un po', raccontaci un attimo Allora, io sono Maurizio Romano e mi occupo di insegnare agli uomini a sedurare donne, in maniera elegante però Ok Perché ci vuole eleganza anche in queste cose, vedete, sono vestito come un manichino non a caso Dopo ti faccio domande anche in merito a questo Ok E quindi io mi definisco lice italiano perché mi aveva colpito moltissimo il film di Will Smith e da lì ho iniziato a dire c'è qualcosa in più nella seduzione Perché io ho una sfiga con le donne devastante, è come il calzolaio che va con le scarpe bucate Ok E poi ti racconterò se vuoi qualche aneddoto Ok, perfetto, prima mi hai detto anche una frase molto interessante, è meglio, se ce la vuoi ripetere Noi puntiamo sulla qualità delle donne Ok Quindi piuttosto che avere un grande, perché molti dicono avere un body count gigantesco è una cosa figa In realtà è una roba che io definisco da sfigati Perché un uomo che va con cento donne non è un figo, è un uomo che si accontenta di donne disponibili Perché quelle veramente top, belle, intelligenti, interessanti, di valore Non ti dicono sì in un batter doppio Devi sudartela, no? E ci sono uomini infatti che vanno con tante donne proprio perché con quelle inaccessibili non ci possono arrivare E trovano le classiche scuse Ci vogliono i soldi, ci vuole il fisico, ci vuole la bellezza, ci vuole questo, ci vuole quell'altro Quando in realtà, devo usare un termine un po' poco elegante, però ci vogliono le palle Ok, 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 parto subito con una domanda interessantissima Perché hai iniziato a aiutare le persone, visto che anche tu mi hai detto Sono un po' sfigato con le donne, ok? Cioè da dove è partita l'idea di fare questa cosa? Tutto nasce dal, praticamente dalla devastazione del mio matrimonio Ok Io ho iniziato presto, ero molto, ero il classico, diciamo, sogno italiano, no? Mutuo, famiglia, figli, moglie, eccetera, eccetera, no? A trent'anni avevo raggiunto tutto quello che l'uomo medio vuole, no? Il problema è che non ero felice, non ero soddisfatto, avevo un lavoro a tempo determinato Indeterminato, guadagnavo relativamente bene per essere un dipendente Avevo tutto quello che serviva per il sogno italiano dell'uomo medio, no? Il problema è che non ero soddisfatto La mia relazione è andata male per diversi motivi che ora non stiamo a spiegare E lì ho preso, come si suol dire, un tir nei denti perché non me l'aspettavo Cioè tutta la mia vita si è sgretolata pezzo dopo pezzo Ho visto mia moglie che mi ha lasciato e io ho detto c'è qualcosa che non va Allora ho iniziato a prendermi cura di me stesso perché mi ero lasciato andare Ero 150 chili, no non così tanto però Ah ok Sembravo un pandorino, sembravo un bel pandoro E avevo perso voglia di fare, voglia di costruire, di fare cose E quando mi sono ritrovato da solo, a 34 anni, senza niente, senza obiettivi, senza niente Ho detto, no, devo capire perché il mio matrimonio è andato a rotoli Devo capire che cosa è successo Ho cominciato a studiare sotto consiglio di un mio caro amico che è Pierre Di Mick Cosentino, il socio di Mick E mi dice, Mauri, guarda, ti sono vicino in questo momento ma fai una roba Tu che sei uno sveglio, leggiti questo libro Il metodo misteri che conoscono tutti nella seduzione Ho cominciato a studiarlo E ho cominciato a capire che avevo fatto un mare di errori Ho cominciato a capire che c'era davvero un mondo E allora ho detto, bene, io mi ero rimesso in forma Ho cominciato a vestirmi in maniera precisa Ero diventato quello che avevo sempre sognato di essere E le persone mi facevano sempre due domande Chissà quanta figa prendi e come fai a vestirti così E funzionava? E funzionava perché poi alla fine le persone mi facevano queste domande E io stavo delle ore a parlare di seduzione, di come conquistare le donne Perché mi ero giustamente trasformato nel gentleman E un giorno Mick Cosentino mi dice, perché io ho cominciato a studiare con lui Mi dice, Mauri Questo? Anzi ti chiedo intanto quanti anni fa? Giusto per dare un'idea Era il 2018 Ok, un po' di tempo fa Appena separato parlavo con Mick Io stavo lavorando in quel periodo come dipendente E un giorno il mio capo mi risponde male Io lo guardo E gli dico, ok Sono andato nella mia scrivania Ho scritto la lettera di dimissioni E gliel'ho portato Ricordo ancora La risata Che ha fatto quando gliel'ho presentato le dimissioni E mi ha detto, tu credi di avere successo facendo il gentleman Perché io all'inizio, quando ho iniziato con Mick Insegnavo agli uomini a essere gentleman Ok Però poi la gente mi chiedeva due cose Cosa intendevi nel pratico? Vestirsi in maniera elegante Comportarsi Apparire in un certo modo Apparire in un certo modo Io ero Sono sempre stato Questo grazie a mio padre Che mi ha insegnato ad esserlo Carismatico Cioè lui era un personaggio Cioè è un personaggio fantastico Lui entra in un qualsiasi gruppo Diventa il capo dopo cinque minuti Cioè attira l'attenzione Beh anche a te ti si nota Diciamo in un gruppo di persone L'ho potuto notare Esatto, esatto Ecco io faccio questo Io ho imparato da lui Perché io Una delle strategie Che insegno ai miei ragazzi È proprio quella Cioè diventare Il leader di qualsiasi contesto sociale Io ovunque vada Dopo cinque minuti sono il capo Ma non il capo Perché domino E ci puoi diventare? Perché questo è un bel discorso Secondo me Io ero un re degli sfigati Ok Cioè io ero il Cioè non è che uno ci deve nascere Per esempio No assolutamente Ok io mi ricordo che Nel bene o nel male Perché a volte anche nel male Funziona come cosa Ero sempre al centro dell'attenzione Quindi anche in classe In qualunque momento Ero sempre al centro dell'attenzione Ero già un pochino Diciamo predisposto per E quindi ho sempre avuto il dubbio No? Però per me è stato relativamente semplice Se c'era da decidere in 30 Cosa fare quella sera fuori a cena Decidevo tutto Da dove andare a mangiare A discoteca dopo A qualunque cosa No? E quindi mi chiedo appunto Chiunque può Ti racconto questa cosa Ok vai Ora mi vedi così La gente mi vede nei locali Sono personaggio Faccio casino Sono sempre al centro dell'attenzione Io però soffrivo di ansia sociale Perché Per chi non lo sa L'ansia sociale È un'ansia Un panico Che ti viene Quando sei con le persone Ti viene proprio il panico E cominci a diventare rosso Non parli più Non respiri più Ti vengono proprio gli attacchi di panico Perché non reggi il confronto Con gli altri esseri umani E quindi Mi chiudevo in me stesso Ero totalmente In panico Cioè soffrivo d'ansia Proprio ero squilibrato E E fino a che Era successo Quando stavo con la Con la mia ex moglie Poi infatti Ci siamo separati E da lì ho reagito Ho reagito Ma io ero re degli sfigati Cioè Ero veramente una persona Ma non sfigati Perché poi le persone Anzi voglio lanciare Questo messaggio Che è molto importante Le persone che soffrono D'ansia sociale Hanno veramente Una vita difficile Perché io non riuscivo Neanche a uscire Di casa Io quando Soprattutto mi era successo Con le donne Cioè pensa al paradosso Io incontravo una donna Andavo in panico E sbarellavo Cioè io incontravo Un'amica per strada Cominciavo a non respirare E non parlare più E poi le lasciavo lì Perché le incontravo Questi Ciao come stai E andavo in panico totale E mollavo le persone In mezzo alla strada Pensavano fossi pazzo Pensa un po' Da quello A entrare nel locale E fare stragi Non solo io so che hai Anche tenuto Un evento dal vivo Con la tua attività Su un palcoscenico Quindi proprio L'opposto di quello Che mi hai appena descritto Esatto Ma ora proprio In ogni contesto In cui vado Sono sempre al centro E se non ho L'attenzione Me la prendo In qualche modo E ti dico È proprio Fare della propria Debolezza più grande Il proprio Il proprio punto di forza E questa è una cosa Di cui vado tanto orgoglioso Perché per le persone Che sanno Cosa vuol dire Avere l'ansia sociale Pensare di arrivare Come me Può darti Un impatto gigante Perché poi Ora non è che ti dico Che quando poi Sono sempre al centro D'attenzione Sono sempre ok Ogni tanto ritornano I meccanismi Della mente Però ho una gestione Che è assolutamente Più efficace Rispetto a queste cose Perché Quell'ansia lì Non ti lascia mai Però pensare Di poter diventare Come me Arrivare su un palco Davanti a 200 persone Tenere il palco E fargli saltare Urlare Fargli gasare Come dei matti E anche far funzionare Un'azienda E far funzionare Perché poi dopo Devono comprare Magari ci sono Dei prodotti Dei servizi Quindi c'è anche Un aspetto di vendita Che comunque Non è proprio facile Se hai qualche difficoltà Con le persone in generale E io ho cominciato così Ho detto No Devo fare in modo Di diventare Il più grande seduttore d'Italia Devo fare in modo Di Uno era un po' Per rivincita Anche loro Sai cos'è? È che Tutti mi consideravano Uno squilibrato No? Cioè Mi consideravano Uno sfigato E ho detto Sai che c'è? Io ogni giorno Farò un passo Verso l'obiettivo Ogni giorno Farò una piccola azione Per portarmi lì E questa cosa Non ho mai smesso di farla Ogni giorno Facevo un piccolo passo Quanto tempo ci hai messo Ad uscire Da una situazione Un po' così A arrivare in un Non dico Il comfort che hai adesso Magari nel comportarti Nel parlare Un anno È stato un anno Che per fare uno switch Così tanto grande Comunque non è Tantissimo tempo Poi è stato un escalation Perché poi Tutto dipende Dall'immagine Che hai di te stesso Chiaro Quando ho iniziato Le persone Detrattori Pensa che Quando ho iniziato A fare seduzione Nel mio quartiere Avevano creato Un gruppo Whatsapp Per prendermi in giro Cioè E io avevo l'ansia Quindi figurati Come giravo Cioè andavo in fasi Anche perché comunque L'argomento poi Seduzione è tutto È un po' come i soldi In Italia Cioè tutti li vogliono Ma Esatto Nessuno vuole Non è che se ne parla Proprio E pensa che Tutta questa cosa Mi aveva portato A stare malissimo E io dovevo Prima di uscire di casa Mi guardavo i video Motivazionali Per avere il coraggio Di uscire di casa Che roba E oggi E oggi Vabbè Quando andiamo nei locali Ragazzi Gente che fa le foto Le ragazze Io infatti Una delle cose Che più fighe Che faccio E faccio in modo Che le donne Vengano da me E questo è il mio Marchio di fabbrica Questa cosa qua Ce la devi spiegare Sentiamo 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 Perché io Diciamo Capisco un po' Questa cosa La riconosco Anche vedendo Magari una persona Adesso molto Brava nel sociale Brava nel Suo business E tutto Quindi comunque Una persona carismatica Una persona che Anche del potere Diciamo In mezzo alle altre persone E quindi di conseguenza È facile attirare No Cioè Se tu ti presenti Un mio amico Mi dice sempre Se tu Inizi a fare un po' Di soldi Inizi a comportarti In una certa maniera Cammini in modo diverso E questa è proprio Una roba Viva Ecco Svegliamo questa cosa Non sono i soldi Che ti fanno Attirare donne Non è il fisico E l'addominale scolpito Non è la Porsche O la Ferrari Non è tutto quello Che la gente crede È come ti senti tu Come ti poni E come ti senti Perché quando uno Si compra la Porsche O la Ferrari Si sente più sicuro Quando uno ha il fisico Si sente più sicuro Quando uno È famoso Si sente più sicuro È quello che cambia È quello che ti dicevo prima Le palle Quando hai le palle L'altra sera Ero 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 in serata Allora Io vado così Quando mi piace una ragazza La punto La dichiaro Perché ora è il nostro gioco Però non andiamo Sul Sul Ok Sulla quantità Ma andiamo sulla qualità Se mi piace una ragazza Con la mia crew Andiamo E dico Quella lì È il mio bersaglio Ok E faccio in modo Che venga lei a parlarmi Questa qui Sabato sera Era ragazzi Una cattedrale barocca In onore della figa Ve lo giuro Sembrava Becky G Ok Ok Era Attorniata da uomini Ok Il classico palestrato Con la camicia Unto Con una cotoletta Sai tutti Uguali Perché poi li fanno in serie Io sono arrivato Col cappello Personaggio E ho fatto una roba Le ho dato le spalle Tutta la sera Tecnica classica Classica Le ho dato le spalle Tutta la sera E ho fatto uno show In mezzo alla mia compagnia Di ragazzi Cioè di amici E questi morivano Che non la consideravo Questa era bellissima Questa era bellissima Aveva l'attenzione di tutti Ero l'unico Questa mi guardava Da delle ore E io non la guardavo Io la vedevo Con l'occhio Con la coda dell'occhio Che questa mi guardava Ero l'unico Che la guardava Quando succedono ste robe Le donne Soprattutto se sono molto belle Vanno fuori di testa Perché sono abituata Al contrario Esatto Perché Questa è una bellissima È una bellissima Un bellissimo concetto Le donne Hanno bisogno Dell'attenzione maschile Cioè Per noi Noi abbiamo bisogno Del sesso No? Cioè Vi faccio Una bellissima cosa Che ho sentito Instagram Per le donne Sta a Pornhub Per gli uomini Ma è davvero così Cioè Lo stesso Rilascio di dopamina Che noi abbiamo Quando andiamo A vedere Pornhub Loro ce l'hanno Con l'attenzione Perché Ti sei mai chiesto Perché Tutte le Instagrammer Tutte le classiche Content creator Ok Che è il nuovo modo Di chiamare le donnacce Di malaffare Di dubbia moralità Di corrotta negoziabile virtù Vedi Questa è una frase politica Esatto Un po' più Voglio cercare di essere elegante E Loro Cosa fanno Mettono una foto Con l'obiettivo Di ricevere Valangate di like Da chi Da morti di figa Che sono lì Per soddisfare Il loro ego Perché hanno bisogno Di attenzione E' quello il giochino Ma Lo fanno Per Quelli che non le considerano E' sottile Ok Cioè loro mettono la foto Per attirare l'attenzione Di quello che non le considera Perché è un uomo Top E non ha bisogno Di fare il morto di figa E usano I morti di figa Tutti quelli Come leva Per dire Vedi quanta gente Che Esatto Perché io lo chiamo Bancomat emozionale Cioè loro E' riprova sociale Tutti gli effetti Loro mettono Il loro corpo in mostra Per ricevere Questa sicurezza E poter andare A cercare Di conquistare Quell'altro Sì Che poi è un aspetto Che comunque Agli uomini Poi sei qui Tu l'esperto Quindi mi permetto di Però Agli uomini Cioè quanti like Quanto sei seguita O la macchina che hai Ma che cavolo Che ne frega Cioè Se esce una bella ragazza Da una panda Ma chi se ne frega Che è una panda Ma non interessa nessuno Anzi Che però Non è detto Che secondo me Il contrario Non sta in piedi Tanto Cioè Se l'uomo esce dalla panda Per quanto sia un uomo Che può essere bello Quindi Un bel uomo Che esce da una bella Macchina Ma Considerata un po' scarsa Diciamo così La macchinina E' giusto E' giusto In un determinato contesto Ok Allora Ovviamente Ci sono donne E donne Donne di vari livelli Ok Se vogliamo andare Sul 5% Delle top È normale Che non puoi scendere Dalla panda Questo è vero Perché sono abituati Ad uno standard Infatti Io sono spesso In difficoltà Perché io riesco a ottenere Che ho la panda No no Perché riesco a ottenere Perché riesco a ottenere L'attenzione di donne Che sono abituate A andare sugli yacht Ok Capito? Solo che serve lo yacht Lo yacht adesso Non ce l'ho Non ce l'ho Però hai capito il discorso Ok Cioè Quando sei Giochi In quelle partite lì Tu devi sapere Che magari Lei è stata con uno Che aveva Lo yacht Davvero Cioè una che È di un livello Talmente alto Che ha accesso Che usciva col calciatore Che usciva con l'imprenditore E lì è un po' più Difficultoso No? Perché poi lì Non è lei Che ti dice Guarda io vorrei Andare sullo yacht Ma è tu che da uomo Da maschio Ti devi mettere all'altezza Hai capito? Sì dopo diventa una sfida Contro E quindi è un problema Però Se tu hai Un Io poi ho uno standard Alto Perché ovviamente Fa parte del mio lavoro Perché ovviamente Mi piace quel tipo di donna Però il discorso è questo Se Tu vuoi una ragazza normale Acqua e sapone Che sia Wife material No? Cioè Una Donna Con cui poter costruire qualcosa Che abbia voglia di costruire Ma che tu Scendi dalla panda O dal 127 scassato Ah certo Devi essere un uomo Cioè quello che conta Per una donna Perché Se vai a vedere Allora Si accoppierebbero E procreerebbero Solo i ricchi Certo Ma anche perché siamo più noi Che facciamo gara Chi ce l'ha più lungo Le donne Esatto Noi cerchiamo di scalare La società È quello il problema Però Ritornando al discorso Non serve Avere i soldi Per conquistare la donna Se vuoi conquistare Belen Ti faccio l'esempio Quelle super Lì ti serve Cioè Questa è una cosa Che voglio dire Perché Noi spesso Noi seduttori Diciamo No non serve È vero Non serve se vuoi Una ragazza Molto bella Ma normale Se vai con quelle Che sono abituate A andare a Dubai In elicotteri In jet privati Che sono di un altro Di un altro pianeta E lì è un po' Lì ti serve Comunque avere una base Però bisogna anche capire Se il tuo obiettivo È avere qualcosa Come dicevamo prima A lungo termine Oppure no Perché comunque Io infatti Il problema mio È che mi piacciono Quelle lì Però poi quelle lì Non hanno L'obiettivo Di creare Di creare a lungo termine Quindi sto cercando Quella che sia come me Perché scoprono Che non hai lo yacht Esatto E poi lì è finita E lì è così Ma è proprio così Il discorso No poi non è che Non è quello Scoprono che poi Sono impegnativo Cioè Normalmente l'uomo Che può accedere A quel tipo di donne Si diverte Si sollazza E poi trova la nuova Ok E quindi fa fare loro Quello che vogliono Cioè si fa mancare Di rispetto Cioè Ma ti faccio un esempio Ok Una cosa che deve fare la donna È proteggere la coppia Che cosa vuol dire? Proteggere la coppia Dalle attenzioni Di altri uomini Te la faccio arrivare piano Se tu stai con una donna Ok Molto bella E questa mette Le foto Tette e culi Certo Ogni giorno E ha il profilo di Instagram aperto E ha OnlyFans E ha questo E ha quell'altro Sta proteggendo la coppia No Se vai in discoteca Tutte le sere Sboccia Crea delle situazioni Che non sono utili A mantenere la relazione Il ruolo della donna È quello Di proteggere la coppia Da altri uomini Ok Ti faccio una domanda Allora provocatoria Poi siamo nel 2023 Quindi figurati Se non lo devo fare E non dovrebbe esserlo Anche dell'uomo Certo Viceversa Assolutamente Noi siamo fanatici Io ho proprio un codice Da fanatico Ok Io se qualche mio corsista Tradisce O non rispetta la propria donna Io lo caccio Ok Perché ho subito Queste cose Nella mia vita E non voglio che nessuno soffra Soprattutto con quello Che insegniamo Che è una Roma Cioè sono delle armi Tra virgolette Che sono illegali Cioè nelle mani di gente Che non ha etica Certo No no ma anche perché Manipolazione per soluzione Che tu puoi utilizzare In maniera sana Oppure no Infatti spesso Quando si tratta di questi argomenti Magari qualcuno potrebbe vedere Un piccolo pezzettino In questo podcast Dice no Quella cosa lì Sembra una cosa brutta Detta in quel modo Ma no Invece no Cioè c'è un obiettivo Io conosco la tua etica Conosco un po' il tuo modo di pensare So che Cioè l'obiettivo è molto bello Certo È un obiettivo a lungo termine È un obiettivo È come dire Al posto di fare il metodo di guadagno Che mi porta a perdere soldi Faccio un business online Un qualcosa di serio Eccetera Esatto Ti faccio una domanda personale Il tuo business Quando Cioè quando La donna scopre Che modello di business hai Cioè che insegni A rimarchare È utile oppure no Cioè questa Deve essere proprio Una situazione divertente Cioè io mi immagino una scena In cui lo impara Sì È divertentissimo È un po' un casino Allora perché all'inizio Sono super incuriosite Ok Super incuriosite Poi però vedono Qual è la potenza Perché poi io le faccio Poi glielo insegni E quindi lo usa contro di te No 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 E se nel mio lavoro Faccio vivere Delle relazioni alle donne Che sono Di un altro pianeta Infatti io dico sempre La mia Che è un po' tossica Sta roba Però è bella Perché poi Quando trovo una Che non si comporta bene Dico La mia soddisfazione È che comunque lei Si ricorderà di me sempre Sarò sempre Il suo metodo di paragone Ok E gli hai alzato l'asticella È arrogante Sta roba però è così Perché giustamente A livello personale Di come la tratti A livello Di forza di carattere A livello di guida A livello sessuale Perché noi insegniamo Anche a fare sesso Cioè capisci È un altro pianeta Infatti poi Tutte le donne Dopo Ritornano tutte Chiaro Infatti una cosa Che mi dice sempre La mia ragazza È una donna Dovrebbe essere conquistata Sempre Anche se siamo fidanzati Da dieci anni C'è un'importa Ed è vero Io sono molto d'accordo Su questa cosa Anche perché altrimenti Si stanca molto più velocemente Di quanto ci stanchiamo noi Sicuramente Sicuramente Io per esempio Potrei tranquillamente A volte essere Molto più rilassato Nella coppia Invece so che Bisogna Bisogna Deve fare il Rolex Deve fare la vacanza A Dubai Niente di tutto questo Un bigliettino E un bacio perugina Con una scritta particolare Che ricorda il vostro primo appuntamento Una cenetta preparata a casa Poi noi insegniamo poi A fare tutte queste robe Super fighe No? E le donne poi Vanno fuori di testa È vero Adesso quando uscirà Questo podcast Quindi Tanto sarà fra qualche settimana Quindi la mia ragazza Già l'avrà scoperto Io che ho imparato Questa cosa Mi ha speso Perché all'inizio era tutto Dai andiamo in quel bell'hotel Cinque stelle Eccetera Poi ho capito Che tanto non gli cambiava nulla Poteva essere anche tre Che tanto non gli fregava nulla Bastava il letto pulito E eravamo a posto E io Adesso che ho imparato queste cose Mi Diciamo Dedico molto tempo Anche a cose Che poi Mi rendono anche molto felice Perché gli faccio Quel piccolo regalo Quel piccolo pensierino La letterina Oppure adesso scoprirà Quando tornerà a casa A Lisbona Fra una settimana con me Che troverà tutta la casa Preparata Con tutti i palloncini In le mille robe Ho organizzato una roba Ma tu sei un top player Sì ho organizzato Una roba pazzesca Ho messo Che si è coordinata La donna delle pulizie Con l'assistente Con un'altra persona Che è il fioraio Che porterà tutte le robe Ma quanti hai speso Hai speso 20 mila euro No Avevo speso tipo 100 euro per far tutto Cioè è una stupidaggia Però vale come Una vacanza Ovunque Infatti io sono contentissimo Non vedo l'ora Della reazione che avrà Ho organizzato questa bella cosa Mi fa super piacere La cosa Anche perché poi ci tengo anch'io Cioè non è Dopo che sei stato la decima volta Gli occhi della tua donna Che è innamorata Io dico proprio questo Cioè io non riesco a capire Quelli che si accontentano Di una botta e via Cioè che senso ha Vedere la tua donna Che si innamora di te Che continua a investire Nella relazione Che si Che investe Che è innamorata Che per te Per lei tu sei L'uomo migliore del mondo Cioè ma non ha paragone Ma anche perché Io una cosa dico Quando stai con una donna A lungo termine Anche il sesso Che è quello Per cui noi uomini viviamo Migliora In maniera Dieci volte di più Certo Perché fare il sesso Con una donna La prima volta Non ti conosci Non hai confidenza E poi A mano Cioè man mano Che hai confidenza Crei un rapporto Sessuale Cioè una Una relazione sessuale E migliora anche quello Sviluppi anche te Delle skills Io ho imparato così Io non ho Lo dichiaro Non ho avuto tantissime donne Però ti posso garantire Che quelle che ho avuto Valgono veramente 100 Perché a livello mentale A livello estetico E soprattutto anche a livello di relazione Anche in quel caso lì Cioè in quegli ambiti lì Perché migliori Cioè conosci meglio la donna Conosci meglio le dinamiche Avere donne che porti a cena E poi vai in hotel Come se fossero delle Donnacce di malaffare appunto Che cosa ti lascia? Certo Ma io sono d'accordissimo Esatto Che le mandano via Io te lo giuro Ste robe Io parte che Infatti mi prendono in giro I miei ragazzi Quando usciamo Mi dico Mauri tu ti innamori sempre Perché quando vedo una Per me è talmente Perché a me non piacciono nessuno Io sono un rompipalle Gigantesco Quando usciamo In un locale Cioè me ne piace una Due Al massimo Credo che Quando ti impegni In una relazione Se ti impegni Seriamente Devi capire Che devi farlo Con una donna Per cui ne valga la pena Perché ovviamente Un uomo Che ha la capacità Di sedurre Qualsiasi donna Deve scegliere Una donna Per cui ne valga la pena Altrimenti Te ne stai da solo Chiaro È questo il discorso E io Sono super selettivo Perché deve essere Innanzitutto Super bella Poi deve essere Una donna Che protegge la coppia Perché come ogni uomo A me piacciono Le donne Che tutti vogliono Ma che nessuno Può avere E che nessuno Ha avuto Perché ti faccio Un esempio Le donne Tipo le porno star Le only fans Queste qua Oppure quelle che L'hanno data via Come se non fosse La loro Non sono donne Sono donne Sessualizzate Che tutti Con cui tutti Vorrebbero andare a letto Ma nessuno Vorrebbe al proprio fianco È vero Se lo chiedi a qualunque uomo Ti direbbe che non si sposerebbe Mai una così Perché? Purtroppo C'è uno dice Eh no Ma dovrebbe essere normale Perché adesso Poi nel 2023 Figurati Si dice Ma non è vero Ma anche perché Basterebbe fare uno studio Mettere lì Le persone Vedrai che tu Con la macchina della verità E chiedergli Guarda questa te la sposeresti È stata con 500 ragazzi Forse ci penso Sono donne bellissime Ma è normale così Bellissime Però Che magari sono anche simpatiche Divertenti Intelligenti Indipendenti Però La verità È che 500 uomini Hanno Sollazzato Il proprio regale Eugello Su di loro Anche perché c'è da dire Una cosa molto importante Tu hai sempre questi Termini Proprio bellissimi Con cui raccontare No no ci sta Dicevo Sono troppo pirla Che bellissime Non ce la faccio Arrivare a dire serio Dicevo Che questo era L'argomento serio Che invece volevo Tirare fuori Se tu ci pensi Comunque Un uomo Che è stato Con tante donne È vero Che è una cosa Anche lì Che si potrebbe guardare Diciamo Come una persona Che magari Non ha obiettivi Di lungo termine Serio eccetera Però comunque L'uomo che è stato Con tante donne In teoria Ha fatto fatica In teoria Con ragazze Diciamo Con cui c'è Un obiettivo A lungo termine Eccetera eccetera In teoria Ha fatto un po' Di fatica Di sicuro Ha fatto molto più fatica Di una donna Che deve dire In teoria Solo di sì Cioè nel senso Che si trova Capiamo questa roba Ok Per le femministe In ascolto Che sono Io sono Sei fan Io sono fan Sicuramente Loro mi odiano Di quelle belle Di quelle belle Solo quelle belle Allora Il discorso è questo Un uomo Per riuscire A conquistare una donna Deve fare una fatica gigantesca Perché la donna Seleziona Il suo lavoro A livello Antropologico È quello di selezionare Il maschio Col miglior codice genetico Ok Perché noi vogliamo Che la donna Non abbia Tanti partner Perché A livello di istinto Che noi abbiamo Gli stessi istinti Dei nostri antenati Dobbiamo Scegliere una donna Che non sia stata Contaminata Dal gene di qualcun altro E che sia Inarrivabile Inaccessibile Perché più inaccessibile Più il nostro codice genetico È mischiato Con una donna di valore Certo È per questo Che la donna Si deve solo concedere E l'uomo deve conquistare Viceversa Una donna Che è andata Con tanti uomini Ha semplicemente Svenduto il suo codice genetico È proprio vero Infatti l'uomo Io lo noto tanto Anche parlando Con diversi miei amici Che sono sposati Magari da tantissimi anni Che l'aspetto Più importante Per loro È proprio Un discorso di fiducia Cioè se loro Si fidano La lealtà E tutto E sapere che Della propria donna Ci si può fidare È proprio il punto Più importante Ma la possiamo dire Qualcosa di super top Cioè che poi Vai vai Cioè svegliamo Il codice del matrix Ok 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 Donne in ascolto Guarda come abbasso Anche la voce Persuasione Allora Il discorso è questo Le donne non capiscono Che noi uomini Siamo esseri Estremamente semplici A questo è proprio A noi basta Che la nostra donna Sia attraente Per noi Che sia leale Cioè sappiamo Che il nostro codice genetico È protetto E che lei Non dà confidenza Ad altri uomini Lei ci deve Sostenere emotivamente Non ci deve Dare consigli A noi Non ce ne frega Un cavolo Dei consigli Delle donne Noi vogliamo Essere i guerrieri Che tornano Dalla battaglia E abbiamo E che ci sia La nostra donna Che ci sostenga E ci ami E ci curi le ferite Emotive È proprio vero È proprio vero Chi non ha mai avuto Una relazione a lungo termine Magari non sa questa cosa Ma se io torno a casa Dopo la peggior giornata Che ho avuto È successo un po' di tempo fa Mese scorso Che avevo C'era stato un problema Ho fatto stare Guardo il bilancio A fine del mese Mi aspettavo 15.000 euro In più di profitto Mi sono incazzato Come una bestia Una bestia Perché ho 15k in meno Comunque una vacanzina Te la fai Non è che Però torni a casa C'è la tua ragazza Ti dà un bacio Che magari ti ha preparato Anche un tè Un caffè Anche solo un piccolo gesto Dai amore Andrà tutto bene Non capiscono Invece la donna arriva Io ho lasciato la mia ex Due ex così Cioè perché Mi davano Non mi sostenevano I momenti difficili E lasciare una figa mondiale Devi essere pazzo No Perché non mi dai Quello che mi serve E dicevo L'uomo ha bisogno Di una donna Che si prenda cura Di lui emotivamente Non una madre Ma una donna Che curi la parte emotiva Perché Quando un uomo Ha una donna Che lo sostiene Può ottenere Qualsiasi Cosa È vero Sei super spronato In tutto Sei una iena Perché l'uomo Che cosa fa? Vive Esiste Esiste E ogni respiro Che fa È direzionato Alla propria compagna E alla prole Che la stessa compagna Genera E alla famiglia Tu Non hai fatto il grano Perché Vuoi sputtanartelo Tu fai il grano Perché un giorno Potrai condividerlo Con la tua donna E i tuoi figli Questa è una cosa Da insegnare Però Perché Sai qual è il problema Che tantissimo Io vedo proprio Relazioni che vanno In frantumi Perché L'uomo non spiega Non parla Di questa cosa Magari alla propria donna Perché Basterebbe dirglielo Cioè Il mio obiettivo Non è lavorare 15 ore al giorno Perché poi voglio andare A divertirmi da solo In discoteca Cioè Non è quello Non lo capiscono Perché sai perché No Il problema è il femminismo Ciao femminista Questo lo tagliamo Ciao femminista Il problema è il femminismo Fanatico Ok Perché Hanno insegnato alle donne A diventare uomini È quello Il vero problema Cioè C'è uno scambio Ho visto uno studio Bellissimo Americano Che non mi ricordo Come si chiama Dove Avevano intervistato Un botto di donne E Solo il 20% Nel 2023 È stato fatto Si identificavano Come femministe Perché hanno visto Quello che stava succedendo E tantissime donne Ha detto Sì Il femministe Anche meno Perché Le donne oggi Quando fanno Business Quando fanno i soldi Quando fanno Perché una donna Lavora Per essere indipendente Dall'uomo Non lavora Per lo stesso obiettivo Che ha l'uomo Certo L'uomo vive per la famiglia E per la propria donna Poi ci sono uomini Inutili Che non sono neanche Da chiamare uomini Che hanno una famiglia E vanno in giro Di fiore in fiore Ecco Una roba Non è quel caso Diamo un messaggio La monogamia È una convenzione sociale Non esiste in natura Cioè questa roba Non esiste Noi stiamo in coppia Per convenzione sociale E proprio perché Vai contro natura Per questo Perché noi dovremmo Fecondare più donne Possibili in salute Per la genetica Mischiare il nostro codice genetico Con più donne possibili Se stiamo in coppia Andiamo contro natura E già che stai andando contro natura Esimi a testa di cazzo Devi essere coerente Con quello Che hai scelto di essere Perché se stai in coppia E ti accontenti Di una relazione Che non ti soddisfa Di una donna Che non ti soddisfa Di una situazione Che non ti dà niente Te ne stai da solo E vai a fecondare Tutte le donne che vuoi Certo Cioè a fecondare No Ti accoppi Con tutte le donne Ti vai a divertire Diciamo così Esatto Però anche lì Anche qui Si utilizzano Vedi termini Tipo ti vai a divertire Ma secondo me Il vero divertimento È costruire una bella relazione Decisamente Anche perché non è proprio easy Però quando cavolo Ci sei riuscito Ma mille volte La soddisfazione di una relazione Piuttosto che Andare con cento donne Anche perché La donna La conquisti Nel lungo periodo La donna Non si concede mai A trecentosessanta gradi Immediatamente Immediatamente È via È così Il cuore di una donna Lo conquisti col tempo Ma quando hai quel cuore Hai un diamante Perché Una donna che ti ama Che ti sostiene Come dicevo prima È la cosa più bella Che esista Ed è per questo Che io insegno A costruire relazioni Ed essere fedele A quelle relazioni Perché se tu stai In relazione E vai in giro A Veramente A fare lo stronzo Ma Che uomo Che uomo sei Perché un uomo Vale quanto la sua parola E se tu prometti A una donna Che ti prenderai cura di lei Che la rispetterai Devi Essere coerente Con quella scelta E lo stesso Le donne non capiscono Ritornando al discorso Che a noi uomini Serve pochissimo Serve un abbraccio Serve sentirci importanti Per lei È proprio vero E Vi do Sveliamo anche questa cosa Chi comanda Nella coppia Non è l'uomo Ah lo so Ma non è Non inteso Come lo intendono Le femministe Certo Dove c'è Dove ci sono due uomini Nella coppia E la donna Sminuisce Distrugge l'uomo E lo fa sentire Piccolo così Ma è la donna E qua Tiro in ballo mia madre Perché mia madre È un mito Faceva percepire A mio padre Di comandare Però in realtà Comandava lei Ma in che modo Con la gentilezza e l'amore Ma perché la donna Sa di avere un potere Sopra l'uomo Che è potentissimo Quindi sa già Che sta In quel momento È una manipolazione positiva Comandando È una manipolazione positiva Perché mia madre Arrivava da mio padre Un bacino Una carezza Una parola dolce E diceva Potremmo fare così Perché dai è meglio Dai che così Mi fai stare più serena Mio padre Si metteva l'elmetto Andava in guerra Cioè capisci Faceva Ma non perché fosse Sottomesso Mio padre Era un uomo fortissimo Ma lo faceva Perché era suo Una sua soddisfazione Con piacere mia madre Assolutamente Ragazzi capite La figata Lo noto proprio anch'io Nella relazione Il potere Di riuscire A instaurare Un bel rapporto Con la tua donna Dove la tua donna Ti fa capire Che magari avrebbe bisogno Di quella cosa E per me Molte volte diventa Quella cosa L'esperienza più bella Dell'esperienza Che mi sarei fatto da solo Solo perché c'è la mia donna E quindi diventa fantastico Cioè tra tutte le città d'Italia Io per esempio Non ho qualche tipo Di preferenza Del tipo Preferisco andare lì Dalla Ma cosa mi cambia Però nel momento in cui so Che la mia ragazza Adora per esempio Andare a Venezia Sparo Ecco che lì Diventa bella Venezia Esatto E quello è il discorso È proprio vero Diventa bella Venezia Il problema è che oggi Le donne Sono trasformate in uomini Quando hai un problema E ritorni dalla battaglia Con le ferite Ti dai consigli Ti dici Eh ma ma sei uno sfigato Perché hai fatto No Tu sei quella che cura Non sei quella Perché non ho bisogno Si giochi squadra con me Quello è il discorso Non sei un antagonista Oppure Eh un uomo dovrebbe essere Un uomo dovrebbe fare Quando ti paragonano Cioè le donne Ragazze All'ascolto Vi prego Non paragonate mai I vostri compagni Perché è il modo Più veloce Per farli scappare Quando un uomo Non si sente il top Anche lì Faccio un esempio stupido Che molti diranno Ah ma sei degli anni Potremmo ritornare Negli anni venti Ciò c'è al cappello Nel caso Il problema qual è? È che se voi Mettete like Come delle morti di cazzo Scusate se uso questa Scusate se si dico morte Come delle morti di cazzo Dietro agli uomini palestrati Su Instagram Cioè capisce Capite che Si abbassi l'autostima Cioè l'uomo si sente virato Sei di te Sai il mio ex era Ed è qualcosa che tu non hai Perché questa roba La fanno per manipolarti Per farti sentire inferiore E abbassarti A un livello più basso Più gestibile Il problema È che facendo questo L'uomo Si sente meno E continua a sentirsi E all'inizio funziona Per le donne All'inizio La donna lo domina Quelle donne forti Quando c'è la donna Che comanda una coppia Ma non come Vi descrivevo prima Quella che domina proprio All'inizio funziona Poi l'uomo cosa fa? Dice Ma cavolo Io ero Dio per questa Ero un top player E adesso sono l'ultimo Degli sfigati Che cosa sta succedendo? E dice Vediamo Se ho ancora qualche cartuccia Vanno a misurarsi fuori La prima volta che escono Con gli amici O prendono un aperitivo Guardano la tipa E dicono Vabbè proviamo a flertare Tanto sono fidanzato Non faccio niente Lo fai una volta Lo fai due Perché ti misuri Fino a che Non arrivi la volta Che sei in crisi Che quella dall'altra parte Ci sta E non si ferma Il sorriso Ed ecco così Che si rovino Le coppie Eh sì Guarda ti faccio una domanda Invece Cambiando argomento Molto secondo me Interessante Sul mondo Del porno E sull'autorotismo In generale Cosa ne pensi? Perché purtroppo Quello che secondo me Sta succedendo È che tantissimi uomini Che avrebbero Tranquillamente Delle chance Abbassano Le loro opportunità Perché Decidono di stare in casa E procurarsi Autorotismo Al posto di uscire Magari vivere Un'esperienza Veria e propria Cercare anche Durante magari Una relazione Di coinvolgere più La propria donna Su certi aspetti Nell'ambito del sesso Eccetera Quando invece Non dicono nulla Perché tanto c'è Vado sul sito porn E fino Esatto Questo è un grosso problema Perché più che altro È dentro la coppia Ok Quindi quando la coppia Secondo te Però sai Ci sono anche tantissime persone Che non riescono ad avere La coppia Proprio per colpa Di questa cosa Perché dopo un po' Diventa un Circolo vizioso Ecco Io non sono tanto d'accordo Su questo Cioè lo dicono Però Allora Sicuramente Ammazzarsi È un problema Ti scarica Poi l'abbiamo fatto tutti In periodi Più o meno Importanti Però l'abbiamo fatto tutti Ovviamente ti scarica Ovviamente ti dà Molta meno energia Ti dà meno voglia Di sbatterti Ok Però ragazzi Guardarsi uno schermo Anche la più figa del mondo Che lo fa con un altro È meglio Averne una A propria disposizione Il discorso è che Purtroppo Tanti uomini Vedono il porno Come l'unica soluzione Perché? Perché oggi Le donne là fuori Si sovrastimano Questo Continuo mettere foto Su Instagram In questi morti Instagram è un problema gigantesco Instagram è un'app di dating Cioè se Instagram è un problema Ormai è un sito porno È un app di dating Cioè è il male del mondo Instagram è il male del mondo Perché quando una donna Si mette online E sta in coppia Come ti dicevo prima E ha foto nude Il profilo aperto Mette una foto Arrivano valanghe di là Io ho lasciato Tante ragazze Per questo Non vuoi chiudere Instagram? Ciao Non è chiudere Però Comportarsi in una maniera diversa Ora che c'è una relazione Perché poi ci sia un impegno Esatto Quindi chiudi il fottuto profilo Non metti le foto da zozza E non rispondi agli uomini Perché rispondere a un uomo E dire sono fidanzata È già tradire Perché dici Non ce ne sarebbe bisogno Beh in effetti è vero Devi bloccare Ok quindi Io sono fanatico Ma perché è così che funziona? Perché oggi Non c'è modo Di far funzionare una relazione Se la tua donna È esposta Online Perché? Però dipende anche Come si espone Certo Se metti foto di viaggi Vestita Però se ci sei tu Così Così Tutte con quelle fotine Un po' easy Cioè un po' altro che easy Un po' strong Questo attira uomini Perché ti metti in vetrina Poi Ci sono delle regole Che possiamo Cioè delle tips Tipo Mi metti sul profilo Ok Cioè io ci devo essere Perché sì Però E tu Gli uomini Devo fare altre tante Secondo te è giusto Insegnarlo ad una propria donna Una roba di questo tipo Perché ti faccio una domanda provocatoria Se la mia donna È una donna di valore Non dovrebbe già saperlo Cioè io non ho dovuto spiegare Alla mia donna Roba di questo tipo Perché tu Hai una donna giovane Ok Quando superano i 30 Sono già rovinate È ufficiale Perché hanno già Vissuto esperienze negative E per riprendersi Da queste esperienze negative Sono diventate Quello che sono tutte le altre Sì ma è falsa autostima Tanto Esatto Anche perché poi vai Nella vita reale Sì è vero Avrai degli uomini Che ci provano Ma non 500 Come quello che ti succede Sui social Perché lì è Palla di neve E infatti si sovrastimano Ci sono delle ragazze Che sono niente di che A livello mentale Fisico Ed emotivo Che si sentono Cioè Diletta le otta Ciao Ciao Diletta Ti amiamo Ti amo Però per dirti Il discorso è questo Cioè ci sono Ormai le donne Sono talmente Fuori Dalla concezione Dall'equilibrio Che ci sono Dei boiler A pedali Che porca puttana Si sentono veramente Belen E ci va il ragazzo Che magari è bravo Vuole una relazione E questa va dietro Al modello Di Non lo so Di Prada O di Dolce Gabbana Che è un figo E una madonna Può avere chiunque Capito Certo Il problema è che Sovrastimandosi Si credono In grado di ottenere Uomini Che non sono assolutamente La loro portata Però secondo te In quel caso Una donna dovrebbe Diciamo Scegliere l'uomo Alla propria portata O cercare di migliorarsi Per arrivare ad un uomo Ad una portata Allora E viceversa ovviamente Cioè la domanda Qui noi stiamo analizzando Le donne Però comunque Questa cosa Si può chiedere tranquillamente Per un discorso Invece di uomini E che per ottenere Migliorarti Cosa significa Significa Prenderti cura di te stessa Migliorarti mentalmente Che poi ragazzi Non è solo l'aspetto fisico Ok Certo C'è proprio un atteggiamento È ovvio che se L'hai data A 8000 uomini Se ci sono foto Tu e su OnlyFans E video porno Tu hai su OnlyFans E che pensi di essere Una donna Di alto valore Cioè hai sbagliato tutto Sì da quella cosa Da quella cosa Non si torna indietro Hai capito Queste ragazzine Che li vedi E hanno 20 anni E si credono Si credono super Perché guadagnano 100k al mese Mettendo Le loro grazie Che è in mostra Ma chi ti vuole Poi Cioè la domanda Sì hai un milione Due milioni Tre milioni da parte Ma chi ti prende Perché ora Ora sono fighe Arrivano fino ai 40 anni E continuano a essere fighe Poi la genetica Cioè la vita È quella che è La gravità Fa il suo corso E non ti vuole più nessuno E quando arrivi a 50 60 anni Che hai milioni Però non hai fatto figli Perché nessuno ti ha sposato Non hai una famiglia Sei sola come una stronza Mi spieghi che cosa Hai ottenuto Perché ora Soprattutto adesso Le ragazze 35 si divorziano Fanno famiglie Magari si divorziano Fino ai 40 Ai 40 arrivano al picco Perché una donna 40 anni È forte Sicura Poi si buttano Siliconi Cosi Diventano delle fighe mondiali Anche se sono dei Dei cancelli automatici No Perché quello automatico È più figo Ok E quindi Capisci Cioè arrivano a 40 anni Che sono top E si credono in grado Si sovrastimano Si credono in grado Di poter scegliere No Quando trovano l'uomo Magari Di un certo tipo Che le tratta bene Non scendono Compromessi Perché sono Abituate a un mondo diverso A un mondo diverso A vincere sempre Però arrivano poi a 45 E la gravità lì Non c'è botox Che tenga C'è 45 anni E quella di 25 Ti fa sempre 10 Ti stacca sempre Di 10 misure Certo E passando invece A un altro argomento Sul tuo business Cioè tu Attualmente Quanti studenti hai Cosa Come funziona Un po' Giusto per spiegare Visto che abbiamo Abbiamo parlato Tanto di quello Che fai Ma di come Lo insegni Allora Se tu hai Perché io dico sempre Questa frase è verissima Una donna Anche la donna più bella Può essere conquistata Solo ed esclusivamente Dall'uomo Che crede di poterlo fare Bella questa Ma è così Io ho iniziato Come tutti A conquistare donne Normali Poi ho cominciato Io ecco una regola Io non vado mai sotto Al livello Della ex Della precedente Perché Cavolo muori però In una situazione Di Io sono stato L'ultima La mia ex Che era Una figa Termonucleare Una barbie Era Cioè proprio Una roba stellare Sono stato sei mesi Io che sono quello Della figa Sei mesi Da solo Non ho baciato Una ragazza Per sei mesi Perché non c'era Nessuna Alla sua altezza Ok Che sembra strano Però Pensa alla selezione Io No Io vado in serata Cioè posso andare Col camioncino Cioè veramente Me la tirano Con la fionda Questo è il livello Di autostima Più alto Che io abbia mai sentito No no ma è reale Cioè io ti faccio parlare Con i ragazzi Che vengono con me Ok Quanti studenti hai Per curiosità Qui abbiamo anche Poi altre Persone C'è il terzo Il muro Adesso siamo Allora 500 che hanno fatto I percorsi E siamo sui mille Che hanno preso Qualche provo Quindi hai fatto Eventi dal vivo Corsi Venti dal vivo Poi abbiamo il nostro Questo è il Ok Magnifico anello L'anello L'anello della confraternita Dei person Che sono quelli Che fanno il nostro Mastermind Con loro Facciamo eventi dal vivo Serate Dove ci sono io Con loro Insegno proprio Tutte le tecniche Li analizzo Mentre parlano Con le donne Facciamo delle robe Stellari Facciamo anche percorsi Di sopravvivenza Sono simulazioni militari In stile Marines Dove tirano fuori Le palle Cioè io li faccio Dormire per quattro giorni Ok 25 E li faccio dormire Nel bosco Li faccio attaccare Durante la notte Cioè li porto A un livello di stress Talmente alto Che arrivano alla fine Che sono uomini nuovi E questo aiuta tanto Poi nel discorso In relazione Sì perché se tu stai Quattro giorni nel bosco Con il sergente maggiore Che la mattina Ti fa fare l'allenamento militare Non mangiando Con la gente Perché all'inizio Sono tutti fighi Arrivano tutti speciali Si sentono rambo Poi piano piano L'immersione Perché poi c'è anche Lo storytelling dietro L'immersione è talmente forte Che arrivano il quarto giorno Che sono flashati Cioè gente che proprio Scrolla Cioè noi abbiamo visto Della gente svinire Gente che durante l'allenamento Si metteva a piangere Cioè scene di questo tipo qua Ok Però è una roba Che poi alla fine Ti porta a cambiare Totalmente il tuo mangio Cioè ottengono dei risultati C'è gente che non si riconosce Cioè mi arrivano dei messaggi Da quello che tu mi hai descritto Diciamo che Per quello che si è potuto vedere Non corrispondi proprio Alla descrizione Di qualche anno fa No assolutamente Eh ma perché Ho cominciato a cambiare Il mio modo Di pensare a me stesso Perché ho ricevuto talmente Ecco questa è una cosa importante In ogni ambito In cui In cui una persona Possa essere Cambia Cambia il mindset Sulla base Spesso persone che hanno Degli obiettivi Hanno il problema Una domanda Vai C'è qualcuno che ti dà una mano Col tuo modello di business Adesso cerco Ma guarda Aspetta Non so se esiste No aspetta Tipo nel crescere Forse tu No Davvero Allora ragazzi Ora Giuro Giuro Ok Quanto di più caro Che sono i miei figli Che non è una marchetta Ma questo ragazzo È un alieno È un alieno È un alieno Cioè Da quando Collaboro con lui Il mio business Ha proprio Svoltato Svoltato Ma davvero Mi hai detto una cosa bellissima Che credo che sia stato Uno dei migliori complimenti Che ci abbia mai fatto un cliente Che tipo avevi detto Che in x anni Me l'aveva riportato Il ragazzo del mio team Che in x anni di tempo Non avevi mai ottenuto Questi risultati Dalla nostra gestione Quest'anno È l'anno Con più risultati in assoluto In sei mesi Abbiamo fatto Il fatturato Dell'intero l'anno scorso Figo Adesso bisogna crescere Adesso bisogna spingere Poi ci sono tutte queste idee Però è così No no davvero Avete un atteggiamento Proprio Mi rendo conto Mi rendo conto E ti dico anche questo Perché bisogna dire la verità Quando vi ho visto così giovani Così Così freschi Cioè ho 40 anni Voi ce ne avete quasi 20 di meno E ho detto Vediamo Perché io poi mi sentivo Speciale no Ho detto Studio Da anni Marketing Sono arrivati Sti ragazzi Tre mosse Scacco a re Hanno vinto tutto Io dicevo Non è possibile Vedevo il conto Dicevo non è possibile Abbiamo provato Il lancio del libro In mille modi Con mille soluzioni Sempre dei flop giganteschi Prendevo i soldi Pile di soldi Bruciate Siete arrivati voi Avete fatto Un disastro Fantastico Un disastro positivo Avete proprio Dato la possibilità A Gentlemind Di andare A livello successivo E di questo Ti ringrazio Davvero di cuore Guarda Ti ringrazio io Per questa bellissima No no ma perché È fatta col cuore Grazie Ti ringrazio perché Mi fa molto molto piacere Guarda È una cosa che Ci è stata detta tante volte Ma ogni volta Fa veramente Tanto tanto piacere Perché fate il vostro lavoro bene Avete proprio Avete una Una mente fresca Avete proprio un atteggiamento Poi siete tutti giovanissimi Sì sì La media sarà tipo 22 anni I ragazzi del mio team Sono tutti delle macchine Ma tutti la mia età Macchine Ma sono equilibrati ragazzi Ieri sera Sono andato a letto Alle due di notte Mi sono svegliato alle sei E stavo parlando con la stessa persona Alle due di notte Alle sei di notte Alle sei di mattina Cioè Contemporaneamente Per risolvere un problema Stavo parlando con la stessa identica persona Del team Allo stesso identico Orario Di quando Sono andato a letto Di quando mi sono svegliato Voi avete un'energia Una prontezza Che Io guardavo Un podcast di Briatore Che diceva proprio questo Ci sono delle persone Cioè ormai Ogni 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 età Al suo Ok Ci sono persone Che a un certo punto Dovrebbero Farsi da parte E dare spazio ai giovani E voi siete proprio L'esempio di questo Perché Se io sono bravo Nel marketing Nelle cose Però voi avete questa mente Molto più elastica Molto più Più pronta In queste cose Ed è veramente Veramente Bello Vedervi Lavorare Perché dico Cazzo Sono vecchio Devo lasciare spazio E occuparmi di quello che so fare Ovvero la figlia Del tuo mestiere È questo È questo Quindi stavo subendo Questi bellissimi complimenti Da parte tua Senza essere pagato Quindi ti ringrazio Ovviamente Ve li meritate tutti Perché avete veramente Cambiato totalmente Quello che è Il mio business E vi ringrazio Senza di voi Questa scalata Non sarebbe possibile Guarda Ti ringrazio Veramente tantissimo Ti ringrazio Per il tempo Che ci hai dato a disposizione Per quello che ci hai raccontato Per questo Corso di rimorchio Gratuito Che ci hai fatto E bene Non vedo l'ora Di vedere i risultati Che si sterranno Poi insieme Ci rivediamo Fra qualche tempo Esattamente Esattamente Grazie per la visione Ovviamente trovate tutti i link In descrizione Sia nostri Che In questo caso Dei gentlemen E vi invito A guardare ovviamente Le prossime puntate Iscrivervi al canale YouTube Di On Podcast Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione